Archiviata la bella e sofferta vittoria al tiebreak con Sassuolo, il Valle Soverato prepara il big match da affrontare in trasferta con Pinerolo, seconda forza del campionato. Siamo con Antonio Mariano, lo scoutman del Valle Soverato, per presentare questa sfida che si annuncia sicuramente difficile ma anche avvincente. Per un Soverato in salute, reduce da cinque vittorie consecutive e che quindi andrà lì per cercare di scavalcare l'avversario e quindi attestarsi al secondo posto. Dopo la trasferta di Marignano sapevamo di avere cinque partite dove potevamo fare bene, ma non era così scontato riuscirci e quindi questo va a merito alle ragazze soprattutto e poi a noi come staff della società di essere riusciti a fare così bene in queste cinque partite che ci ha aiutato molto in vista anche dalle seconda fase. Sì, adesso andiamo a Pinerolo, sappiamo di andare ad affrontare una squadra forte, specialmente quando gioca in casa sua, sappiamo che Pinerolo è un palazzetto caldo e quindi sappiamo andare là e non è una partita facile. Sicuramente la forza di quella squadra in primis è Zago, un opposto di categoria secondo me superiore e quindi è un punto di riferimento per la squadra. Poi c'è le nostre conoscenze di Soverato come Jennifer Boldini, Bertone stessa, Grigolo e Bussoli sono due posti quattro di rispetto e poi hanno dei buoni cambi come Buffo che quando entra si è fatta sempre rispettare anche quando ha sostituito Grigolo per qualche problema fisico che ha avuto la giocatiglia di Pinerolo. Un Soverato che nelle ultime cinque vittorie, alcune di queste le ha maturate al tiebreak, indice anche di una condizione psicofisica buona della squadra che ha dimostrato anche di avere grande carattere. Ma tu che sei l'addetto alle statistiche ci puoi dire in che cose il volle Soverato nell'ultimo mese e mezzo è migliorato rispetto a prima? Perché abbiamo visto che è una squadra che comunque ha coinvolto un po' tutti nel suo gioco e quindi è riuscita ad avere apporto da parte di tutti. Quando andiamo a preparare la partita che andremo a risputare con Pinerolo è il ritorno, quindi già noi abbiamo visto anche la partita dell'andata che abbiamo risputato al Parascopa con Pinerolo. Guardando la partita dell'andata e poi guardando quello che Soverato è riuscito a fare le ultime cinque partite, veramente devo dire che le ragazze sono state bravissime a seguire il lavoro che noi gli abbiamo proposto, hanno messo tanto di loro. In allenamento sono migliorati tantissimo e poi questo l'abbiamo portato anche in partita. Soverato in questo momento diciamo che il nostro punto di forza è la ricezione perché stiamo ricevendo veramente bene, abbiamo tutte efficienze positive in tutte le rotazioni, qualcuna soffre in più rispetto a altre rotazioni, però veramente stiamo facendo bene. Poi l'ultima partita abbiamo preso 10 ace contro Sassuolo, ma Sassuolo sappiamo che è una squadra che in battuta soffriamo come è anche successo all'andata dove ne abbiamo presi 12, quindi sapevamo che Sassuolo era una battuta che ci metteva in difficoltà. Poi siamo migliorati tantissimo sulla fase muro difesa dove le centrali sono state bravissime a seguire il lavoro che il mister Napolitano gli ha proposto e veramente si sono ben indirizzate verso quella che è la nostra teoria di preparare le partite. Quindi bravissime loro e poi anche diciamo che stiamo facendo bene con i posti 4, con Silvana che anche nell'ultima partita stessa ha fatto una prestazione super, la stessa Mason che è cresciuta partita dopo partita dall'inizio fino adesso. Non dimentichiamoci la diagonale, che è una diagonale giovane con Bortoli alla prima esperienza in Serie A e la stessa anche Botarelli che stanno facendo benissimo, Irene ha anche combattuto con un problemino che ha avuto alla spalla e veramente ha stretti i denti e questo ci rende orgogliosi di lei. E poi va bene, certo abbiamo anche Gibi che per noi è una sicurezza e per non dimenticare poi chi sta fuori dal campo che è importantissimo sia per gli elementi che per la partita, la stessa Quarchioni che ci ha risolto tantissime partite come quella di Tal Masson che veniva da un infortunio e quindi non era facile che lei entrava in campo e faceva quello che ha fatto. Quindi siamo contentissimi, siamo mirati tantissimi, siamo tantissimo e specialmente come ho detto prima sulla fase muro difesa dove le ragazze stiamo avendo nelle ultime cinque partite abbiamo fatto 50 muri quindi stiamo viaggiando molto bene e questo la stessa Bortoli che all'inizio soffriva, nelle ultime cinque ne ha fatte nove muri quindi stiamo veramente orgogliosi di questa squadra e speriamo di continuare così fino al termine di questa regular season e poi prepararci a quello che ci vedrà dopo. Grazie a tutti.